Quei fiocchi, perlomeno sia all'ombra o non sia al sole intanto. Ha dovuto attendere? No, 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 no. Com'è andata? Ha dovuto attendere molto? No, per niente. È andata bene il caffoncello di Treviso, dove oggi alla sala convegni erano previste le vaccinazioni delle classi 1933-1934. All'accettazione si sono presentati anche alcuni familiari di anziani che ieri, causa il troppo tempo di attesa, hanno disertato la chiamata ai centri di Villorba e Luvignano. Oggi qui le attese sono state inferiori ai 30 minuti, ad aiutare la gestione del flusso degli anziani, quasi tutti accompagnati volontari dell'Associazione Carabinieri. Molto confusi per troppe notizie distorte, televisione, media e tutto, impauriti da queste informazioni poco corrette, però un po' rassegnati e un po' anche con voglia di affrontare la cosa. Confermano che a rallentare il sistema è la fase di anamnesi, dove più di qualche anziano, convocato a colloquio con il dottore, esprime le sue perplessità sul siero AstraZeneca, esibendo la lista di farmaci che prende e delle patologie. Fioccano ora assicurazioni, ma in qualche caso non basta. Anche oggi ci sono stati dei rifiuti. Anziani se ne sono andati senza vaccinarsi in attesa dell'arrivo di Johnson. Nella maggior parte dei casi, però, dopo i dubbi iniziali, ha prevalso la fiducia nel personale sanitario. L'AstraZeneca aveva qualche timore? Insomma, relativamente. Penso che siano un po' tutti uguali. Adesso qual è il suo desiderio più grande? Chissà qua ancora un po' di anni. Niente di più.